Ciao Popoli Raga Nerd, sono al Gifonifilm Festival, questa volta non più sul Blue Carpet, ma bensì su una bellissima bicicletta. Avete visto come tengo bene l'equilibrio? Queste biciclette, quelle di Vilano, sono meravigliose, le amo, le adoro. Comunque oggi, grande giornata, giornata da premi Oscar. Infatti qui sul Blue Carpet, al Gifonifilm Festival, c'è stato Gabriele Salvatores, che arriverà prossimamente al cinema con Il Ragazzo Invisibile 2. Se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Di Cinecomic Italia, lei è stata il primo portando Il Ragazzo Invisibile, poi è arrivato Gabriele Menetti e adesso questo ciclo è importante. Quanto questo genere può finalmente svecchiare un po' la cinematografia italiana e quanto in realtà c'è ancora lavoro da fare per poter metterci un po' di pari passo con gli internazionali, con la cinematografia internazionale? È vero, non ci avevo mai pensato, sarà il nome Gabriele che ti porta a fare delle cose. Ma il... No, il... Io credo che noi abbiamo come cinema italiano dei genitori importanti e molto difficili. La mamma si chiama commedia all'italiana e il papà si chiama neorealismo. Ci hanno fatto diventare grandi, ci hanno fatto diventare famosi nel mondo e ci hanno nutrito. Però il compito di qualsiasi persona è quello di superare i propri maestri, di superare i propri genitori. Per superarli devi conoscerli, devi amarli e devi conoscerli. Allora puoi andare avanti. Ma in Italia è arrivato il momento di forse superare questi genitori che ci hanno fatto grandi. Credo di sì, credo che si sta aprendo una strada diversa per raccontare la realtà non solo attraverso il realismo, ma anche usando storie più fantastiche, se vuoi, o non strettamente realistiche. Del resto il termine realismo, dopo la scoperta dell'inconscio da parte di Freud o della realtà virtuale e dell'arrivo delle nuove tecnologie, va ridefinito come noi. Che cos'è reale? Si parla tanto di fake news, di realtà virtuale, di compagnia bella. Quindi anche il cinema deve tenere presente questa cosa. La realtà non basta la ripresa reale della realtà per raccontarla. Quindi sono molto contento che il cinema italiano sta prendendo anche nuove strade, o vecchie strade come quelle dei generi cinematografici, che erano non necessariamente non da autore. Ci sono autori importanti che hanno frequentato tutti i generi. Sono contento che il cinema italiano sta andando in questa direzione anche. Mi superhéroe non esiste.